buongiorno famiglia close bene sono passati due giorni dal nostro ultimo video siamo sempre qui a Trelew, Chubut, Argentina, Patagonia e in questi ultimi due giorni abbiamo atteso una risposta da parte della polizia siamo in quarantena forzata e la polizia doveva venire a dirci due giorni fa dove avremmo dovuto trascorrere questa quarantena dopo due giornate di limbo e incertezze finalmente si sono ripresentati e ci hanno chiesto di seguirli all'ospedale per fare un ultimo check febbre, temperatura, eventuali sintomatologie e hanno detto che se non dovessimo presentare alcun tipo di sintomo siamo liberi di andarcene la cosa ci sembra strana perché va contro quello che ci avevano detto la volta passata abbiamo il sospetto che la cosa riguardi il fatto che veniamo da sud forse che è una zona dove non c'erano casi quindi in teoria non possiamo essere stati esposti al virus in nessun modo però mi sembra strano che di colpo abbiano deciso di cambiare idea e di darci questo certificato che ci dovrebbe permettere di proseguire nel nostro viaggio quando due giorni fa ci avevano detto che ci avrebbero fatto sapere dove avremmo potuto svolgere la nostra quarantena insomma un luogo più consono di questa stazione di benzina dove siamo ora però ora sono qui per scortarci noi li seguiamo e vediamo come andrà eccoci qua, ce ne andiamo vengono con noi anche loro, questi ragazzi qui sono messicani e quindi anche loro sono come noi, sono messi uguali, vediamo ok gente, abbiamo fatto, stiamo risalendo ora dall'ospedale ci hanno fatto la carta con cui possiamo, siamo sani, possiamo andare siamo fuori di nuovo ok, eccola la julban sì la polizia è già andata via ci hanno fatto la carta dove ci hanno controllato il livello di ossigeno nel sangue ci hanno controllato, per vedere se respiriamo bene ci hanno controllato la pressione la temperatura e ci hanno detto che non usciremo più dal paese fondamentalmente non perché siamo in quarantena, perché non siamo più in quarantena ma perché hanno chiuso tutti i paesi, le città, eccetera e quindi ora noi dobbiamo trovare un posto dove andare notare che non c'è più nessuno per strada tutto vuoto praticamente, ci sono poche macchine perché i negozi sono tutti chiusi tranne le farmacie e i supermercati quindi dobbiamo riuscire a fare gas comprare cibo e andare a cercare un luogo sicuro dove fermarci buon'estate qua ora siamo alla farmacia ci hanno fatto la finestrella però hanno chiuso tutto il negozio c'è solo la finestrella dove chiedere niente di niente non hanno guanti non hanno più niente niente tutto vuoto wow ok ragazzi stiamo riuscendo a fare gas molto positivo vedete Marco sta andando a pagare li stanno riempendo botti e botti e botti di gas fantastico ci siamo bene missione compiuta abbiamo riempito la nostra bombola e ora la possiamo rimettere dentro il van e andare a cercare un posto dove possiamo accamparci però prima di tutto dobbiamo fare la spesa mangiare bisogna purtroppo anche perché sono flacco da morire che magro andiamo va possiamo fare la spesa per fortuna hanno messo un limite di al massimo due unità per persona per certi prodotti quindi sono abbastanza responsabili stiamo guardando per la lavandina che è il corrispondente tipo della nostra mucchina quella che si usa per disinfettare frutta e verdura vediamo questa va bene per bagno e cucina anche per lavare i vestiti ok questa è nostra spesa compiuta gas ricaricato siamo tutti pronti ad affrontare la nostra quarantena la giornata di oggi è dedicata visto che siamo ancora agli inizi a cercare un posto migliore dove andare a fare questo questa quarantena andiamo cercando affitti cercando di connettere viaggiatori tra di loro capire dare una mano nei vari gruppi di viaggio capire le cose che sono cambiate come come leggi mentre Marco con la mucchina nella spugna ripulisce il van pezzo per pezzo soprattutto la spesa soprattutto qui abbiamo creato un documento ora per un gruppo che si chiama Pan American Travelers Association dove chiediamo alla gente di compilare queste cose queste info di dove sono bloccati e chiediamo alla gente di condividerlo nei vari gruppi delle varie nazionalità gruppi whatsapp gruppi di facebook e cercare di trovare un posto per far stare tutti quindi io sono abbastanza occupata in questo momento e speriamo solo che non decidano di farci uscire dalla città perché stiamo sentendo delle cose del tipo che la polizia sta buttando fuori tutti gli stranieri dalle città sono semplicemente tutti in panico e in questi momenti non ragionano più noi li capiamo quindi non vogliamo dare conto però ovviamente diciamo vabbè forse un giorno capiranno che il virus non ti sceglie per cittadinanza quindi è che ancora ora siamo nella fase iniziale dove il virus è portato ancora soprattutto dagli stranieri più che dalla gente nel luogo e quindi essendo noi stranieri il maggior numero di contagiati non gli interessa diciamo in questo momento l'interesse di una minoranza vogliono occuparsi dell'interesse della maggioranza ed è normale noi come vedete siamo in un posticino abbastanza carino siamo in una stazione della benzina anche perché è l'unico posto in cui possiamo stare che abbia acqua, servizi un minimo di noi cerchiamo di stare sempre nel van comunque abbiamo qua la zanzariera anche entra un po' di arietta se sta bene siamo ancora in una zona con zero casi siamo nella provincia di Chubut siamo ancora nella zona comunque dove non ci sono sembrano casi quindi per il momento è salvo però comunque stanotte chiudono tutto stanotte sì come diceva giustamente Diana chiuderanno il traffico quindi fino al 21 mi pare no 25 pardon non ci saranno più auto che circolano a parte i mezzi di soccorso i camion per il commercio e la polizia perciò se noi non riusciamo a trovare un posto entro oggi rimarremo bloccati qui a meno che appunto come diceva giustamente Diana non ci mandino via il fatto è che non possiamo neanche andare in ostelli hotel camping i camping sono tutti chiusi camping tutte zone di ristoro tutte zone di assembramento non possono stare non può stare nessuno bagno time oggi sto facendo tutto Marco che amore che bello l'uomo di casa sono da sposare che faccio me lo sposo momento di imbarazzato silenzio noi stavamo recorriendo con una camioneta che sta aca è una casa rodante e siamo in un viaggio molto lungo da Alaska a Ushuaia siamo arrivati a Ushuaia e poi la situazione è iniziata a essere male per il tema del coronavirus quindi ci siamo in un'unico che ci siamo in unico che ci siamo in unico a una altra provincia dove avevamo amici che non potevano spettare però con tutte le restriccioni nuove noi stavamo trapati in Treleu perché non possiamo mai salire da provincia che siamo qui e non abbiamo un luogo dove stare già la policia nos parò molte volte nos trairono al hospital nos checarono la temperatura l'oxigeno in nostra sangria e siamo bene non abbiamo sintomatologia e ci hanno lasciato un certificato che dice che ci siamo checati e che siamo bene noi arriviamo da una regione che non c'è ancora non c'è caso necessitiamo di un giardino non necessitiamo di una casa necessitiamo solo di un giardino un luogo tranquillo dove troviamo e dove c'è una canilla o qualcosa per cargare l'acqua e una conexione internet possibilmente wifi se no sta bene con il cielo e abbiamo recepzione siamo in movimento di nuovo sempre all'interno di Treleu stiamo seguendo l'agenzia di sicurezza pubblica che ha detto che ci ha trovato un posto dove andare non so dobbiamo andare a vedere com'è perché ha detto che non ha acqua potabile però dovrebbe avere delle docce che ha detto che non è un camping qualcosa di simile non so cosa intendano e non sappiamo se avremo ricezione del telefono wifi non credo proprio però vabbè andiamo a vedere che cosa ci offrono se è un posto sicuro da cui non ci cacciano non ci possono poi cacciare lo prenderei a prescindere da quello che ha speriamo almeno che ci prenda il telefono per non essere proprio tagliati fuori dal mondo ecco ci hanno spostato in un centro sportivo quindi come vedete alle mie spalle spazio ce n'è siamo noi soli con l'immensità dell'universo e andiamo a vedere un po' dove passeremo la nostra quarantena vabbè ovviamente prevalentemente nel van però per fortuna per le nostre schiene non ci obbligano a stare in un posto dove dobbiamo rimanere sempre dentro nel van abbiamo spazio per mettere le nostre sedie fuori qua siamo soli siamo in un edificio un po' in stato di abbandono come vedete le finestre un po' rotte docce ghiacciate però va bene abbiamo a disposizione nostra dei bagni un intero campo da calcio con Marco che come vedete sta facendo gli esercizi prima di andare a farsi la nostra doccia gelata ecco qua un intero campo da calcio tutto per noi non è male come quarantena volevamo fare sport non dubitate ingrasseremo comunque allora come va con questa quarantena Marco come la stiamo prendendo soleggiata attualmente che non è male ci va meglio di molta gente sì però non andiamo male dai poi gli esercizi e poi la doccia gelata ancora sto cercando di aggiustare la caldaia però vabbè vedremo ci stiamo buttando noi ad aggiustare la caldaia sperando di riuscire a risolvere perché qui ci forniscono quello che possono quello che hanno che è quello che possiamo avere in questo momento non ci possiamo lamentare in realtà andiamo a farvi vedere un po' i nostri bagni e docce eccoci qua trovati spogliatoi c'è anche c'è anche una presa di corrente ottimo nel caso abbiamo anche un armadietto sinceramente dicono che hanno disinfettato tutto ma io non toccarei nulla in nessun caso qui abbiamo lavandini funzionanti ce n'è uno in buono stato gli altri si dicono che hanno disinfettato tutto questa me la devono spiegare c'è un bagno che più o meno credo funzioni dobbiamo ancora provare però c'è che è tanto origatoi allora questa non va è stata tappata altra doccia questa dovrebbe essere quella che va però è ghiacciata e se hanno disinfettato tutto mi devono spiegare perché c'è ancora la polvere per terra dell'accumulo secondo me ci dobbiamo dare una bella pulita noi e qua c'è un'altra doccia che non va io ribadisco considerando il fatto che hanno altre priorità in questo momento rispetto a star dietro noi viaggiatori direi che va bene così non è molto più di quello che che si possa pretendere in una situazione di emergenza quindi noi non ci lamenteremo magari ora vado a farmela una doccia perché sinceramente dopo aver fatto due giorni quarantenata da un benzinaio senza poter uscire avrei anche bisogno di una doccia quindi ora scusate ma vado a darmi una rassettata che come vedete tra brufoli e capelli unti non sono molto presentabile ricordatevi di sottoscrivervi ai nostri social quindi non solo al nostro canale youtube ma anche al nostro facebook e instagram vi aspettiamo con il nostro prossimo video perché ebbene sì siamo in quarantena ma quarantena non significa che il viaggio sia finito anzi quarantena fa parte delle avventure di viaggio per cui vi aspettiamo prossimo video riguarderà noi la nostra vita in quarantena patagonica e la doccia ghiacciata vedremo se sopravvivremo ragazzi a presto famiglia claus ciao ciao ciao